Per chi sono questi 25 euro? 25 euro sono per il consulente, ex consulente della ferriera, l'ingegnere Rosato, che oggi si lamentava che i 39.500 euro percepiti per sei mesi di consulenza, alla fine gli è rimasto ben poco. Questo a fronte di operai della ferriera che stanno rischiando di vedersi ridotto lo stipendio. L'iniziativa di Dubs scaturisce da quelle parole che hanno subito suscitato polemica. Questa è la dichiarazione testuale dell'ex consulente del comune di Trieste per la ferriera di Servola, l'ingegnere Francesco Rosato, cognato del senatore del PD Francesco Russo. Il compenso per i sei mesi di consulenza per il comune è stato di 39.500 euro perché per chiarezza non vi va aggiunta l'IVA, pagate su questa cifra le tasse, non è che mi sia rimasto una fortuna. Mi sembra quantomeno inopportuno dichiarare come ha preso appunto oggi con sgomento devo dire dagli organi di stampa che il consulente della ferriera, ex consulente della ferriera, che ha percepito appunto 39.500 euro per sei mesi, pari a uno stipendio mensile lordo di 6.500 euro, dica poi che una volta pagate le tasse non gli è rimasta poi una fortuna. Per essere precisi i denari percepiti corrisponderebbero a più di 3.000 euro netti al mese. Rosato, contattato dalla nostra redazione, non ha voluto fare commenti né rilasciare dichiarazioni. La nostra emittente comunque rimane disponibile per il diritto di replica e mentre il caos ferriera monta sempre più e la preoccupazione, quella si grave, degli operai per il loro futuro, per il consulente dalle mani bucate ecco che parte una colletta. Una colletta per l'ingegnere Rosato al quale spero aderiscano tutti i politici. Personalmente, come appunto appena detto, sono pronto a devolvere l'autogettone di presenza che ho percepito all'ultima seduta del consiglio circoscrizionale, che è pari a 30 euro, da cui, come ha detto l'ingegnere Rosato, tolte appunto le tasse restano 25 euro.